Musica Le Gambiente Calabria nell'ambito del rapporto annuale sulla situazione del trasporto pendolare in Italia pendolaria ha scelto la linea Catanzaroli-Dolamezia Terme come emblema del fallimento di una classe dirigente che non ha saputo o voluto nell'arco di circa 40 anni dotare la parte centrale della Calabria di un sistema di trasporto adeguato alle nuove esigenze produttive e direzionali e ad un'utenza che negli anni è stata letteralmente allontanata dal treno, costringendola a rivolgersi ad altri mezzi di trasporto principalmente al mezzo proprio che ha costi economici e sociali non più sostenibili. Lo ha affermato Andrea Dominiani, vicepresidente di Le Gambiente Calabria. Beh, quest'anno siamo riusciti ad avere, ed è un primato negativo, una delle nostre tratte tra quelle peggiori d'Italia, tra le dieci peggiori d'Italia ed è quella che va dalla Messia a Catanzaro. Infatti qua facciamo questa conferenza stampa per presentare questo e anche il rapporto sui pendolari e sulle tratte pendolari in Italia che vede la Calabria purtroppo all'ultimo posto perché è emblematica la tratta La Messia a Catanzaro che è una tratta che viene sottovalutata, non è stata completata completamente e invece è necessaria perché la parte gommata del tratto è frequentatissima dalla maggior parte delle persone che abitano sia dalla parte terrene che dalla parte ionica. Bisogna rivedere e rinvenzionare e soprattutto immaginare un modello trasporti, un piano trasporti per quanto riguarda la Calabria. Bisogna mettere al tavolo del governo regionale le ferrovie dello Stato, le ferrovie calabrucane, quindi le ferrovie della Calabria il governo perché dovevano trovare i fondi di 200 milioni di euro che servono per poter realizzare quella che viene già fatto in tutta Italia in tutta Europa e solamente in Calabria non esiste, cioè la priorità verso il ferro rispetto alla gomma. Allora ovviamente il lavoro fatto dalle cambianti è sempre greggio ed è stato comunque positivo il fatto che questa volta abbiano deciso di interessarsi proprio alla linea Lido, la Mezzia in particolare che rappresenta il fulcro della negatività del sistema per i pendolari e del sistema di mobilità nel nostro capoluogo. Ovviamente la nostra posizione è sempre quella della lotta. Noi abbiamo già dall'anno scorso con i primi tagli iniziato una mobilitazione che per fortuna ha trovato il coagulo con tutto il mondo sindacale. Ci vuole più lavoro per portarci dietro anche i cittadini che si aspettano sempre che siano gli altri a fare le battaglie ma questa è una battaglia che comunque deve essere il più larga possibile.